Musica Nuova giornata di interrogatori dopo gli arresti che hanno travolto Expo e la Sanità Lombarda. Oggi in procura ha parlato Sergio Cattozzo, ex esponente dell'Udc Ligure. Ha risposto alle domande, riferendosi ai post-it su cui, come ha messo l'unio discorso il politico, aveva annotato la contabilità dei soldi incassati dall'imprenditore Enrico Maltauro, ha chiarito il significato delle cifre. Gli avvocati di Cattozzo non hanno rivelato altri particolari, ma a breve si proseguirà con un secondo confronto. Atteggiamento collaborativo, Cattozzo ha risposto a tutte le domande del sostituto procuratore Antonio D'Alessio, l'intermediario Ligure tra i sette arrestati nell'inchiesta sulla presunta cupola degli appalti in Lombardia. Un passo avanti per gli inquirenti dopo i silenzi di ieri di Greganti e Frigerio. Oggi poi il manager di Expo, Angelo Paris, ha chiesto di essere interrogato. L'istanza è stata depositata questa mattina a Paris durante l'interrogatorio di garanzia di lunedì. Aveva fatto parziali ammissioni, riconoscendo di aver fatto errori, ma aveva respinto l'accusa di far parte della cupola degli appalti. Intanto a Milano questa mattina c'è stata la visita di Vicente Loscertales, il presidente del BIE che scelse Milano come città ospitante. Expo va avanti, ha detto Loscertales. Non credo ci saranno ripercussioni sugli investimenti e le presenze dei paesi dopo gli arresti. Milano è una vetrina eccezionale. Dichiarazioni arrivate mentre al Pirellone un gruppo di attivisti dell'Unione Sindacale di Base occupava la Commissione Sanità di Regione Lombardia al grido di vergognatevi in galera i tangentisti. Il gruppo ha lanciato false banconote da 80 euro con il volto del presidente del Consiglio Matteo Renzi nella stanza. I manifestanti hanno esposto striscioni e occupato simbolicamente alcuni spazi.